vedete giù in fondo siamo a roma e hanno babbo l'hanno scritto roma siamo al contrario adesso lo riprendiamo anche da sotto fateli ripartire fateli ripartire di nuovo a lup certo qui che cosa abbiamo le blu bot che vanno vanno per campi a prendere i fiori riconoscono i colori la città sostenibile tutto l'insieme ok per cui da una parte abbiamo la raccolta differenziata e dall'altra parte invece il verde green fantastico bellissimo qua cosa abbiamo ss un grido d'aiuto dai per il nostro pianeta fantastico qua cosa abbiamo perfetto però non è partito questo ss ma uno di sicuro dall'alto è partito l'abbiamo visto qui abbiamo ai robot che fa un percorso sulle città comunità sostenibile obiettivo 11 fantastico quindi è un percorso dalla scuola al barco abbiamo ideato un percorso da devono fare con la macchina con l'auto certo dalla scuola al parco e poi dopo invece da fare a piedi perfetto sì c'era lo scalino va bene va bene però comunque l'abbiamo visto sulla simulazione lì del del programma e funzionava qua cosa abbiamo qui abbiamo un'agricoltura sostenibile io porto qui da prima femmino poi devo innappiare le mie piantine raccolgo il mio gran turco e sei felicissimo perché hai fatto cassa è chiaro qua cosa abbiamo abbiamo le blu botte che sono diventate gli spartini ognuno deve andare a raccogliere dei rifiuti disseminati sia nel prato che nella città dai bellissima la carta quindi c'è l'etichetta e poi dopo lo dovrà portare nel ovviamente nel deposito pertinente che è qua bellissima e anche lei plastica fa la partire aveva l'abbiamo programmata ok ecco che la prendiamo adesso e parte e quindi anche lei consuma il carico di bellissima e fatemi arrivare qua aspetta che passo e qui cosa abbiamo allora la raccolta alimentare per le comunità di diciamo delle che hanno necessità allora il nostro fa al giro quindi passa per fare su questa griglia una raccolta alimentare quindi raccoglierà tutti i prodotti che servono alle popolazioni povere quindi dalla pasta l'olio d'oliva il latte la farina e i pomodori bellissimo tale botte anche parlato che cosa ha detto che non sentito bene la pasta prendi la pasta sembra un aereo da dietro è un cargo è un cargo elettrico prendi i pomodori fantastico fammi vedere davanti eccolo prendi l'olio d'oliva cosa ha detto prendi l'olio d'oliva prendi l'olio d'oliva prendi il latte il latte hai preso anche la farina e io direi che su queste note e su questo balletto vi ringrazio e farei un applauso a tutto questo meraviglioso gruppo siete veramente sono orgoglioso di voi grande